Non è mai la guardia abbassata, dobbiamo continuare a comportarci secondo le regole che ci siamo dati. Tutti insieme, questa grande sinergia sicuramente ci farà sconfiggere il virus. Ricordiamolo, questo è un virus vigliacco, molto debole con i prepotenti e forte fino alla letalità con i più deboli. Quindi oggi è la giornata nella quale assistiamo un colpo durissimo al virus, speriamo che sia un colpo del knockdown. Ma questo, se tutti quanti insieme ribadisco, ci mettiamo di impegno. È una bellissima giornata, una grande emozione. Come dire, anche l'attenzione dei media che ho sempre visto come un'attenzione positiva, il messaggio che i media hanno rilanciato, diciamolo, è sempre stato un messaggio corretto. Prima non abbiate paura, dopo non abbassate la guardia, il messaggio oggi è stiamo uscendo. Stiamo veramente alla fine, all'inizio della fine di questo percorso del deserto. Abbiamo speranza e fiducia nella scienza. Dobbiamo avere fiducia.